In questa lezione parleremo di uno dei pannelli più importanti per quanto riguarda la resa delle immagini in stampa. Il pannello nitidezza è paragonabile a quello che in Photoshop si chiama maschera di contrasto, ossia è un pannello che cerca di rendere più nitidi i dettagli, di darci una percezione più nitida dell'immagine, anche se oggettivamente i dettagli non possono essere aggiunti dopo la fase di scatto. Cerchiamo di capire come funziona. La prima regola è che conviene sempre andare a visualizzare l'immagine al 100% di fattore di zoom. Questo perché noi lavoreremo su dei dettagli molto fini e di conseguenza se fossimo un fattore di zoom inferiore non ci potremmo rendere conto delle differenze. Nitidezza, che in realtà è strettamente correlato come vedremo dopo con la riduzione del disturbo, ci mette a disposizione 4 cursori. Il primo è il fattore, secondo raggio, dettagli e mascheratura. Per cercare di capire vado a zoomare ancora di più fino al massimo, cosa che non va fatta normalmente, ma per cercare di spiegarvi meglio come funziona questa cosa qua, porto dettagli a zero, il fattore al massimo e il raggio al massimo. Vedete che muovendo il raggio sembra che vengono fuori degli aloni più scuri e più chiari intorno ai dettagli fini dell'immagine, fino a un certo punto in cui gli aloni scompaiono, ok? Perciò vedete che qui non c'è niente, man mano qua d'assù migliora fino a questo punto e poi a un certo punto decade di nuovo. Bene, voi dovete immaginarvi esattamente dei micro aloni messi intorno ai dettagli più fini. Proviamo a prendere anche questa zona qui dell'immagine. Proviamo ad aumentare anche i dettagli per renderli più chiari. Vedete che questo ovviamente è esagerato, ma mi pare che sia piuttosto chiaro quello che succede. È come se noi passassimo con una matita sottilissima tutti i dettagli della nostra immagine. Ora, capito questo, dobbiamo solo scoprire cosa ci intende con fattore raggio, dettaglio e mascheratura. I valori di default, anche in questo caso, secondo me non funzionano bene. Nel senso che sono 25, 1, 25, 0. Ora, il fattore è la forza con cui noi andiamo ad applicare questo, chiamiamolo impropriamente, filtro, paragonandolo al maschile di contrasto. Perciò, per quello che mi riguarda, il valore tipico che utilizzo è 150. Il raggio, invece, è la dimensione dell'alone intorno al dettaglio. Di conseguenza, il raggio andrà calibrato sulla dimensione effettiva del dettaglio della foto. Nascondo un attimo i dettagli, così che non influisca sul risultato finale. Anche qui vado a zoomare un po', vedete, raggi più piccoli non si vedono quasi, raggi più grandi, guardate soprattutto quest'area qui, lo rifaccio, sembrano incidere di più il dettaglio. Ora, per cercare di capire meglio questa cosa, anche qui il tasto Alt ci torna utile, nel senso che premendo il tasto Alt possiamo vedere solo gli aloni, ok? E vedete come quanto più il raggio è alto, tanto più gli aloni che si vanno a creare sono larghi. Non sono forti, il forte dipende dal fattore, ok? Il raggio implica solo la dimensione degli artefatti che andiamo a creare intorno ai nostri bordi. Io qui direi che un 1,2 pixel, si intende, dovrebbe andare bene. Raggio cerca di lavorare, come abbiamo già detto, sui bordi di dettagli, mentre il cursore dettagli fa esattamente l'opposto, perciò più che lavorare sui bordi cerca di lavorare sulle aree piatte. Ora, vediamo, questo io lo considererei come bordi, perché sono molti dettagli piccoli uno vicino all'altro, questo invece lo considererei un'area abbastanza piatta, perciò mi aspetto che qui i dettagli mi permettano di tenere fuori molto più dettagli, appunto. Scusate il gioco di parole. In effetti è quello che succede. Il problema dei dettagli è che non tira fuori dettagli solo nelle aree piatte, ma li tira fuori dappertutto. Perciò tipicamente l'effetto che se ne ha è piuttosto artefatto. Guardate, senza dettagli, esagerando ovviamente, con dettagli. Vedete come è brutto da vedere. Perciò io vi consiglio di tenere dettagli tendenzialmente abbastanza basso, anche se in qualche caso può comunque funzionare. Per finire abbiamo lo slider della mascheratura. Masccheratura perché? Perché ovviamente noi non vogliamo andare ad applicare questi artefatti, questa nitidezza su tutta l'immagine a prescindere, ma vogliamo andare ad applicarla solo su quelle zone cosiddette ad alta frequenza, ossia dove ci sono molti dettagli fini da enfatizzare. Perciò mascheratura serve a limitare i tre slider precedenti in base alla frequenza dell'immagine. Anche qui il tasto alt è molto più chiaro di mille parole perché ci permette, con una rappresentazione che è in tutto e per tutto uguale a una maschera di livello di Photoshop, di capire dove verranno applicate le impostazioni che stanno sopra e dove invece verranno nascoste. Semplicemente dove c'è bianco, cioè dove noi adesso in questo momento stiamo vedendo bianco, lì verrà applicata la nitidezza. Dove come sullo sfondo c'è nero, lì non verrà applicata la nitidezza. Ovviamente se esageriamo la nitidezza verrà applicata sui bordi più forti, più estremi, ma direi che una cosa di questo genere qui potrebbe andare bene per quello che dobbiamo fare noi. Perché è importante andare a maschera bene la nitidezza? Perché la nitidezza e il rumore, cioè il disturbo, cosiddetto rumore digitale, sono le due facce della stessa medaglia. Perciò se noi andiamo ad aumentare molto la nitidezza e non stiamo attenti, andiamo ad aumentare di molto anche il rumore, soprattutto nelle aree scure dell'immagine o nelle immagini scattate a diso molto alti. In questa immagine qua possiamo vedere qui i dati di scatto. sicuramente è stata fatta con un flash, lo vedo qui riflesso nell'occhio della farfalla. Poi ISO 200 su una D700 direi che è una delle migliori impostazioni possibili. Perciò qui non mi aspetto nessun genere di rumore. Allo stesso modo anche questa che è una situazione scattata di giorno non mi dà nessun problema. Vorrei invece provare a prendere questa immagine qui, andare a schiarirla molto proprio per estrarre il più possibile il rumore e vedete cosa succede. Io qui mi aspetto un'area che tendenzialmente dovrebbe essere grigia e invece guardate quanto rumore c'è. Torniamo perciò sul pannello nitidezza e andiamo a vedere anche la riduzione del disturbo che di default è impostata con luminanza zero e va a toccare solo il rumore di crominanza. Anche qui zoomo al massimo, perciò al 400%, e tolgo tutta la riduzione del disturbo. Vedete come questa che dovrebbe essere un'area, peraltro è fuori fuoco, perciò mi aspetterei un'area abbastanza piatta come questa qui, in realtà è piena di questi artefatti. Ora, per rimuovere questi artefatti abbiamo due possibilità. O ridurre il disturbo di luminanza, cioè i puntini chiari e scuri, o ridurre il disturbo di crominanza, cioè il fatto che vediamo diversi colori accostati tra loro. Di solito vanno ridotti tutti e due contestualmente, ma mentre la riduzione del disturbo di crominanza non è un gran problema tipicamente, la riduzione del disturbo di luminanza tende ad impastare, come possiamo vedere qua sotto, molti dettagli. Guardate, senza riduzione del disturbo di luminanza, c'è più rumore, ma anche più dettaglio. Al massimo ho assolutamente nessun rumore, ma ho perso tantissimo dettaglio. Di conseguenza, la luminanza si può utilizzare tranquillamente senza esagerare, mentre sulla crominanza ci potete anche andare giù molto più pesanti. Ora, non preoccupatevi di vedere di nuovo il rumore, perché vedete che a seconda del fattore di zoom il rumore viene renderizzato in un modo diverso. Perciò, una volta che voi avete fatto queste operazioni, come peraltro ci suggerisce anche Camera Raw, con un livello di zoom pari al 100% o superiore, non avete più problemi. Ritorno a scurire questa immagine. Eccoci qua. E adesso sono sicuro che anche in stampa non mi darà nessun genere di problema.